Beccati altri cinque furbetti del reddito di cittadinanza, percepivano indebitamente il sostegno economico e per questo sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e all'Inps di Chieti dalla Guardia di Finanza di Vasto. In uno di questi casi, spiegano le forze dell'ordine, erano evidenti discordanze con le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni passati, altri invece si sono per così dire dimenticati di comunicare informazioni come la proprietà di fabbricati e terreni, lo svolgimento di attività commerciali o il percepimento di altre forme di reddito. Altre cause che hanno determinato l'esclusione dal beneficio hanno riguardato l'omessa certificazione di precedenti penali o la fittizia residenza in affitto. Ora i cinque subiranno l'immediata revoca dell'erogazione del reddito di cittadinanza, la disattivazione della carta di pagamento elettronica, nonché il recupero delle somme indebitamente ricevute che ammontano complessivamente a oltre 76 mila euro.